Cinturone Secure Belt in robusta cordura, la taglia viene riportata con delle targhette messe al lato del cinturone. Questo cinturone si caratterizza per una fibbia molto resistente in metallo e un gancio su cui noi possiamo mettere un moschettone o passare una corda, è un cinturone per impieghi tattici leggeri per ancorarsi in sicurezza per ogni evenienza. L'apertura e la chiusura avviene con questa fibbia a stringere, qui abbiamo una parte zigrinata che una volta infilata blocca la cintura. Ovviamente il resto della cintura va ad aderire su una parte velcrata molto molto resistente e solida. Ben cucito, ben fatto, realizzato con buoni materiali, è utilizzabile con un normale paio di pantaloni in cui i passanti siano almeno di 5 cm. Per toglierlo e metterlo in tutto si può semplicemente allentare questa parte anche non sfilandola, si allenta al massimo e si toglie, si lascia infilato sui pantaloni. L'importante è poi che per stringerlo facciate la parte del velcro che venga fatta scorrere bene fino ad arrivare alla misura giusta.